Ciao a tutti, Giro Scalano che vi parla e sono qui per dirvi i miei buoni propositi del 2021. Primo buon proposito, non perdere più la cucchiaia della mia madre, perché sennò veramente quella di vivere a rincorco la cucchiaia di riserva casa a casa. Secondo buon proposito, trovare il caciocavallo perduto, perché sennò non vi preoccupate che tagli i doni di Natale qua. Signore sorveglianne, io non mi arrendo così faccio te ne porto un altro di caciocavallo. Terzo buon proposito è, come dice mia nonna, con voti da persona garbata, ossia con voti da Cristina Garbetti. Non preoccupare nonna, che lo farò. E poi un ringraziamento speciale per l'appeto del linko, che grazie alla sua grazia sono riuscita a fare l'esame usando la pace. Che poi come si diciamo a prendere due, noi di grazie tre principalmente ne conosciamo. Grazie, grazie e scaldatele. E un bacio e un saluto caciocavalloso a Playmag e Livio Besci, besci, scusate ma qualche problemi con le accendi io. Un bacione!